Torton lasciato solo, la pinta di Buzzi che prova a prendersi un impalso, alla fine esce Bremer insegnando a Omar Kucchi che fa una gran cosa e che non era facile chiarire in equilibrio, scaricare palla per Mancineti, poi tutto facile, schiacciata, due punti per Mancineti. Che guida in prima persona l'attacco dei Capitolini, si appoggia per Mordente, Mordente che prova a battere il palleggio David Lighty, la palla va poi sotto da Varnado, Varnado non appoggia al dentro, Varnado porta a casa dei ferri di cordo al massimo. Palleggio di Gordis contro D'Ercole, ha insistito, arriva Dedovis che riceve contro Lighty, la palla rubata da Rich che può andare in contropiede e andare a inchiodare la schiacciata da 45 a 29, quattro punti filati in iniziazione nostra. Palleggio e c'è adesso il canestro di Brunner e il fallo di Golema Grazie a tutti